Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Questo spettacolo nasce tanti anni fa su Commissione Sì è vero, diciamole alla verità, la verità va detta nuda e sporca e va detta E' nato su Commissione, volevano una guida alla lettura dell'antigona di Traetta Noi abbiamo fatto una versione appunto free Sono passati cinque anni e siamo arrivati alla versione numero 217 E' una riscrittura del mito dell'antigone in cui noi interpretiamo i temi Cari a Sofocle, ma anche a altri autori che abbiamo indegnamente citato Per non dire maltrattato, saccheggiato, violentato A noi abbiamo fatto l'ambassa di tutti questi testi C'è un altro termine, non lo posso dire Però diciamo, gli autori che abbiamo maltrattato di più, quali sono? Siamo noi Noi Ci maltrattiamo tantissimo in scena Creonte è quello che deve far rispettare le leggi, il garante delle leggi Le leggi che ha scritto lui però, non le leggi quelle proprio Scusa, ma voglio dire, chi è che in Italia c'è il politico che scrive le leggi e le deve far rispettare? E' giusto, poi ci sta qualcuno che si deve alzare e deve dire che non va bene Che ci sono delle altre leggi che sono inviolabili E quelle antigone Che è una rompiscatola e rappresenta quelle poche persone forse al mondo Che possono dire la loro, che vogliono dire la loro, che devono dire la loro E che hanno il coraggio di dire no E chi sono queste persone? Chi sono? Chi sono? Dove sono? Dove sono? E cosa stanno facendo? Se stanno facendo qualcosa Sono vive? Sono ancora vive? Questa è una bella domanda Ma dubito Sai perché morirai? Quei è un messaggio di antico Però tradotto significa E no, non lo devi tradurre, se lo spieghi non funziona più Radio Doppio Zero Radio Doppio Zero Suona ciò che ami Più suona e più la ami